Musica Stanza furgone tamponato da un mezzo pesante individuato irresponsabile che è stato denunciato per omissioni di soccorso. Musica Salerno inaugurato l'anno giudiziario, nuovi obiettivi per la Presidente della Corte d'Appello Crespi. Santa alvia i lavori per la rete fognaria, 7 milioni di euro a disposizione per 15 chilometri di lavori tra area urbana ed extraurbana. Ospedale di Oliveto C, tra Nursi, in salme trasportate da infermieri e operatori sociosanitari, violata la legge. Musica Calcio, pareggio per il Sapri Calcio in casa, punto prezioso che porta i Biancazzurri fuori dalla zona play-out. Musica Dopo aver provocato l'incidente però si è dato alla fuga immediata e sono partite le indagini che hanno portato ad identificare il responsabile da parte dei carabinieri. Musica Il Tirro, composto da due cassoni scarrabili. Una volta risaliti al mezzo che aveva provocato il tamponamento, i militari dell'arma hanno avviato le ricerche per individuare il responsabile, effettuando verifiche su tutto il territorio di competenza della compagnia Saprise. Verifiche che hanno poi portato ad individuare il mezzo pesante nei pressi di Sicilì. Si è dunque proceduto a fermare l'autista, un uomo di 41 anni di Lago Negro, che è stato denunciato per lesioni personali e fuga con omissione di soccorso. Per il responsabile del tamponamento è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida per una durata che va da 1 a 3 anni. E continuiamo con la cronaca, picchiati dal padre con il guinzaglio dei cani e la pompa dell'acqua, la triste vicenda di quattro ragazzini che erano maltrattati dal genitore insieme alla loro mamma. L'uomo indagato per maltrattamenti in famiglia, i danni dei figli e della moglie. Tutto è accaduto in un piccolo comune della Valle del Sele fino al 20 settembre scorso, giorno in cui la moglie dell'elettricista dell'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale coordinati dalla compagnia di Eboli. Ora la donna e i quattro figli sono stati collocati in una casa famiglia. E andiamo avanti con la cronaca, attenzione cari concittadini, questo ladruncolo con una Fiat Punto di colore grigio stamattina intorno alle 5.30 ha cercato di scassinare la cassa self carburanti della mia area di servizio. Con queste parole il proprietario di un distributore di carburante di Rocca d'Aspide ha denunciato via social quanto gli è accaduto. Preziose per le indagini le telecamere della videosorveglianza in cui si vede dalle foto postate dall'uomo il ladro che ha forzato il distributore di carburante alle prime luci di iedi mattina. Accertamenti in corso dunque per identificare il malvivente. E andiamo avanti inaugurato a Salerno nell'aula magna della cittadella il nuovo anno giudiziario dinanzi ad una platea composta dalle maggiori cariche istituzionali del territorio. Ad aprire la cerimonia il presidente della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno Ornella Crespi che ha parlato di diritto e giustizia tracciando un bilancio della giustizia civile e penale del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di Sorveglianza della Magistratura e ha rimarcato gli sforzi da compiere per la salvaguardia dei cittadini. Vediamo. Una giornata che rappresenta il momento centrale di incontro tra tutti i protagonisti del complesso sistema di giustizia che per varia natura ha come riferimento non solo i soggetti attivi del processo, magistrati, avvocati e personale amministrativo, ma anche i cittadini parte dei giudizi e dei processi e il potere politico che nella sua componente legislativa opera concretamente nel sistema. Inaugurato questa mattina nell'Aula Magna della Cittadella il nuovo anno giudiziario dinanzi ad una platea composta dalle maggiori cariche istituzionali del territorio. Ad aprire la cerimonia il presidente della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno Ornella Crespi che nel giorno della memoria ha parlato di diritto e giustizia tracciando un bilancio della giustizia civile, penale, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della magistratura, rimarcando gli sforzi da compiere per la salvaguardia dei cittadini. Dati alla mano, forniti dalle relazioni di carabinieri, questura e guardia di finanza, la presidente Crespi ha fatto il punto della situazione della criminalità comune ed organizzata, la situazione carceraria senza trascurare le attività di riforma, le prime valutazioni della riforma cartabia, il Tribunale per le persone, per i minorenni e la famiglia. L'inizio del nuovo anno giudiziario è un momento di incontro nel quale vengono evidenziati i risultati positivi conseguiti nell'anno trascorso dagli uffici giudiziari del distretto, ma anche e soprattutto i punti di criticità del sistema, con la consapevolezza di individuare la strada da percorrere per raggiungere un sistema di giustizia efficiente, rapido e giusto. Ovviamente, a parte la disamina dei buoni risultati dell'ufficio, un po' con gli aspetti delle nuove riforme, questa incidenza di tante riforme contemporanee, e un po' con gli aspetti anche della criminalità organizzata e comune. Insomma, diciamo un po' con una visione generale, ma ovviamente con i tempi così ridotti sarà... Però poi c'è la relazione scritta per chi ha la pazienza e la voglia di andarla a legno. La riforma della giustizia è complessa, molto complessa, perché soprattutto incide in un momento in cui noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi del PNRR, che incidono ovviamente anche sull'economia del nostro paese. Quindi a volte quadrare tutte le cose non è molto semplice, però gli uffici ce la stanno mettendo veramente tutta. Dopo aver cenato con pesce e vino in un noto locale di Salerno, una coppia prima del dessert è fuggita via senza pagare il conto da 400 euro. Con la scusa di uscire a fumare una sigaretta, i due hanno fatto perdere le loro tracce. I proprietari del ristorante, una volta visionate le immagini della videosorveglianza interna, hanno diffuso l'immagine dei due truffatori, chiedendo a chiunque li riconoscesse di aiutarli, nonostante il volto nell'immagine sia stato oscurato. I due sono stati individuati, si tratta di una coppia originaria di battipaglia tra i 35 e i 40 anni. Spostiamoci a Sanza dove sono partiti i lavori per la rete fognaria. Si tratta di 15 chilometri. La posa della prima pietra c'è stata sabato scorso. Vediamo i dettagli. Alvie lavori per la realizzazione di circa 15 chilometri di rete fognaria a Sanza, un'opera che andrà ad interessare sia l'area urbana, dove saranno realizzati i lavori per circa 4,5 chilometri, che l'area extraurbana che sarà interessata da opere estese per circa 6,5 chilometri. A ciò si aggiungono anche interventi per le acque bianche di 4 chilometri. Un intervento di grandissima rilevanza per il piccolo centro ai piedi del Monte Cervati, che è dato proprio il valore, è stato inaugurato lo scorso sabato 27 gennaio alla presenza del vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, con la cerimonia di consegna del cantiere e di posa della prima pietra. L'opera, ritenuta strategica per il Comune, ha un costo complessivo di circa 7 milioni di euro e dovrà essere realizzata e completata nel giro di un anno. Saranno realizzati ben tre mini depuratori ed inoltre, lungo i tratti interessati dagli interventi, sono previsti circa 5 chilometri di ripristino della rete idrica e la ripavimentazione totale sia bituminosa che incubetti. Una grande opera che, come sottolineato dal sindaco Esposito, era attesa da anni. Questa è l'amministrazione del fare, il commento del primo cittadino. Sono 159 comuni italiani che ad oggi non sono dotati di rete fognaria per le acque refluo urbane e in totale oltre 600 i comuni dove le reti non risultano a norma. Sono questi i dati emersi da una sentenza della Corte europea che ha condannato l'Italia per aver violato le norme comunitarie sul raccolta, trattamento e scarico delle acque refluo urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Già nel 2014 era stata aperta una procedura di infrazione contro l'Italia su questo aspetto. Il lavoro programmato a stanza dunque rientra tra le iniziative finalizzate a superare le criticità in materia a cui sta lavorando la Regione Campania. Questo, ha dichiarato il Vicepresidente della Regione Bonavitacola, è l'esempio di come in Campania lavoriamo per superare queste criticità. Sansa è la scommessa della Regione Campania, un modello assoluto che proponiamo come esempio virtuoso per tutte le opere e i progetti che stiamo realizzando a partire dal progetto pilota Sansa Borgo dell'Accoglienza. Sta facendo molto discutere la decisione del direttore dell'ospedale di Oliveto Citra di affidare a infermieri e ossi il trasporto delle salme dai reparti all'obitorio. Sulla vicenda è intervenuto il nursing che parla di violazione della legge oltre che di un danno alla professionalità degli infermieri. Salme trasportate da infermieri e operatori sociosanitari all'ospedale di Oliveto Citra è quanto stabilito dalla direzione del presidio. Il nursing Salerno esprime il suo sconcerto. La decisione del direttore dell'ospedale Gerardo Liguori che prevede il trasporto delle salme dalle unità operative all'obitorio, con barella da infermieri e operatori sociosanitari durante le ore diurne e da infermieri di reparti operatori sociosanitari del pronto soccorso durante le ore notturne, commentano, solleva serie preoccupazioni in merito alla dignità del momento del lutto e alla corretta gestione della situazione. Il trasporto delle salme deve essere effettuato da personale specializzato come tecnici necrofori in modo da garantire un trattamento rispettoso e adeguato durante l'intero percorso, preservando la sensibilità delle famiglie coinvolte. La professione infermieristica, come sottolineato dalla legge italiana, ha il compito di fornire assistenza ai pazienti in vita, con un focus sulla prevenzione, la cura, la palliazione e la riabilitazione. La richiesta di coinvolgere il personale infermieristico nel trasporto delle salme va contro il mandato prioritario degli infermieri, il cui ruolo è di natura tecnica, relazionale ed educativa nei confronti dei pazienti vivi. In caso di mancato ritiro della disposizione, il NURS in Salerno ha fatto sapere in una nota ai vertici dell'ASL si riserverà il diritto di ricorrere agli organi competenti per evitare contenziosi inutili e tutelare la professionalità degli infermieri. Stiamo vigilando attentamente su questa situazione, assicurano. Faremo tutto il possibile per tutelare i diritti e la professionalità degli infermieri della nostra provincia. Chiediamo con forza la revoca immediata di questa disposizione e continueremo a difendere la professionalità degli infermieri, garantendo che la loro formazione e competenze siano impiegate nel modo più efficace per il bene dei pazienti e delle loro famiglie. A Ottati è stata installata un'area fitness all'aperto nei pressi del campo sportivo per favorire il benessere, l'aggregazione e l'inclusione. Presto l'inaugurazione del campo da tennis è un centro ippico che assolverà una funzione anche terapeutica. Adottati è disponibile da questi giorni un'area sportiva all'aperto con attrezzatura varia dedicata ai cittadini di tutte le età. È stata infatti allestita presso il campo sportivo comunale del paese un'area fitness all'aperto rivolta ai bambini, adulti e disabili per favorire il benessere del corpo, l'aggregazione e l'inclusione. Lo rende noto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Elio Guadagno precisando che l'intervento è stato finanziato dalla PNRR, Bando Sport, Inclusione e Coesione, per un importo di 21.000 euro. Nell'area dunque sono stati posizionati diversi attrezzi per l'attività sportiva utilizzabili da bambini, adulti e da persone diversamente abili. Con fondi PNRR per un importo di 21.000 euro, ha spiegato il sindaco, abbiamo realizzato uno spazio per lo sport all'aperto inclusivo nell'area del complesso sportivo Marino Biagio, dove già insiste un campo da calcio e un campo da tennis che nelle prossime settimane sarà inaugurato e reso fruibile dalla comunità. Consideriamo lo sport uno dei temi di maggiore interesse per la collettività, poiché si ha uno stile di vita sempre più sedentario, con un importante incremento di malattie cardiovascolari. Lo sport all'aperto, ha detto ancora il primo cittadino di Ottati, consente un benessere psichico oltre che fisico, soprattutto in aree incontaminate come quella degli Alburni, come quella di Ottati. Poi il sindaco ha annunciato anche altre novità in tema di sport. Presto ha spiegato, andremo ad incrementare i segmenti sportivi praticabili a Ottati con l'Ippica, dato che è in costruzione un centro ipico che assolverà una funzione anche terapeutica, soprattutto per gli autistici. Non di meno conto è lo spazio al chiuso della palestra comunale di Ottati che abbiamo rifunzionalizzato, ha concluso il primo cittadino, dandolo in gestione ad un'associazione locale che rende il servizio non solo agli ottatesi, ma a sportivi e aspiranti tali di ogni paese vicino. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati. La BCC Montepruno ha voluto aderire ad un nuovo progetto destinato ai paesi che maggiormente soffrono la crisi e dove è particolarmente diffuso uno stato di povertà. L'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese, ha aderito all'iniziativa promossa dalla Federazione delle BCC Campania e Calabria in favore dell'Equador. La BCC Montepruno a fianco dell'Equador, sostenendo l'iniziativa promossa dalla Federazione Banche di Comunità, Credito Cooperativo Campania e Calabria, che hanno voluto inviare fondi di finanziamento importanti al fine di favorire l'accesso al credito e conseguentemente migliorare le condizioni di vita degli abitanti dell'Equador. Nei giorni scorsi è stato erogato l'ultimo finanziamento da parte dell'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese, per il progetto a cui hanno aderito 10 BCC. L'intervento ha consentito di erogare a Banco Codesaroio 1.500.000 dollari che saranno utilizzati per finanziare le piccole attività e la cooperazione in Ecuador. Reciprocità, partecipazione, scambio di risorse, formazione, arricchimento culturale, sono le parole chiave che delineano il progetto Microfinanza Campesiana in Ecuador, che hanno spinto anche la BCC Montepruno a partecipare per completare l'intervento, raggiungendo l'obiettivo economico che si era prefissata alla Federazione. Si tratta di un progetto nato oltre 20 anni fa con Federcasse e referenti economici equadoregni, incentrato su un modello di finanza circolare destinato prevalentemente a giovani e donne. In questo lungo periodo sono stati erogati circa 90 milioni di dollari dalle BCC. La nuova erogazione di finanziamenti continuerà attraverso iniziativa progettuale a sostenere le piccole realtà locali in Ecuador, creando ricchezza e lavoro laddove la povertà rappresenta invece una condizione reale e diffusa. Con spirito di condivisione e collaborazione, hanno affermato i vertici della BCC Montepruno, abbiamo fatto rete e sistema per contribuire alla buona riuscita di questo progetto di cooperazione che punta a creare lavoro e ricchezza in un territorio davvero povero come l'Equador. Ringraziamo il Presidente della Federazione Manzo e il Direttore Vildacci, continuano dalla BCC, per l'impegno e la grande capabilità di portare a compimento questo step nonno scontato e certamente molto più articolato in un'epoca diversa per il credito cooperativo in Italia. Non esistono confini, a nostro avviso, per tendere la mano a chi ha necessità, non distribuendo fondi a pioggia, ma trasferendo loro un modello di cooperazione che ha già riscosso successo e prodotto risultati entusiasmanti. A Polla, strade sempre più sicure. Ora arrivano gli attraversamenti pedonali rialzati in alcuni tratti interni del centro abitato. Si tratta di strade dell'abitato a maggiore densità residenziale. Innalzare gli standard di sicurezza stradale di tutto il territorio cittadino è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Polla che su proposta dell'assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile, Vincenzo Giuliano, vuole posizionare attraversamenti pedonali rialzati in alcuni tratti interni al centro abitato. Nei giorni scorsi l'Aggiunta ha deliberato di chiedere alla provincia di Salerno e Lunnaosta necessario per la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati sulla SR 426 nel tratto Via Luigi Curto all'altezza di Piazza Ritorto e nel tratto Via Campola Scala all'altezza della Scuola Capoluogo e anche sulla SP 125 in prossimità della stazione dei Carabinieri. I punti individuati sono percorsi a piedi dalla cittadinanza infatti sono caratterizzati dalla presenza su ambo i lati della carreggiata di marciapiedi pedonali. Sono anche particolarmente trafficati e qui i dossi costringeranno gli automobilisti a rallentare garantendo un maggiore rispetto per i pedoni. La sicurezza stradale è da sempre una delle priorità da garantire su tutto il territorio cittadino sottolineano dall'amministrazione sia per gli automobilisti, per i motociclisti che per gli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti con particolare attenzione a diversamente abili bambini e anziani. Già nel 2021 l'Aggiunta aveva disposto nuovi provvedimenti per l'innalzamento dei livelli di sicurezza stradale sul territorio comunale prevedendo, tra le altre cose, una zona a velocità limitata a 30 km orari in alcune aree a maggiore densità residenziale. Ora si punta a rendere le strade ancora più sicure con gli attraversamenti pedonali rialzati che saranno posizionati all'interno della zona 30 al fine di garantire un ulteriore innalzamento della sicurezza dei pedoni su alcune strade del centro abitato. E ora lo sport un punto prezioso per i ragazzi del Sapri Calcio nella gara che si è disputata ieri al Matteo Covone dove i biancazzurri hanno accolto gli atleti del Città di Solofra tutto nel secondo tempo dopo il vantaggio dei padroni di casa arriva il gol sul rigore degli ospiti non mancano le polemiche sull'arbitraggio. Un pareggio che sta stretto ai biancazzurri del Sapri nella gara di ieri e che ha portato anche a fine gara numerose polemiche contro gli arbitri designati. Lo stadio comunale Matteo Covone di Sapri ha ospitato ieri l'ultima gara della 22esima giornata del girone B di Eccellenza Campana. I padroni di casa del Sapri Calcio hanno ospitato gli atleti del Città di Solofra in una gara dura e sofferta che inizialmente sembrava nelle mani dei ragazzi di Mister Graziani ma che nel finale complice anche un'espulsione ha visto gli ospiti riversarsi tutti nell'area di rigore saprese. Fondamentali i tre punti per il Sapri che però purtroppo non sono arrivati. La gara ha visto il biancazzurri dominare il primo tempo. Dopo un primo tempo senza reti però i padroni di casa rientrano in campo nella seconda frazione di gioco più decisi e all'undicesimo minuto superano il muro difensivo avversario. Guti supera il portiere del Solofra sul lungo rilancio dell'estremo difensore Saprese e insacca la palla per il gol dell'1-0. Dopo pochi minuti però la gara si mette in salita per i ragazzi di Mister Graziani che sono costretti a giocare in dieci a causa dell'espulsione di Del Giudice al sedicesimo minuto. Al trentasettesimo minuto arriva il pareggio del Solofra che dopo un'azione confusa in area di rigore si vede assegnato il penalty dall'arbitro Ganzerli che Mero la trasforma ed è uno a uno. Seppur in dieci i ragazzi del sapricalcio continuano a lottare anche se nel contempo devono difendersi strenuamente da un assalto che non accenna a placarsi da parte degli ospiti del città di Solofra. Una gara durissima per i biancazzurri anche per le scelte arbitrali. Ultima la decisione di assegnare dodici minuti di recupero. Una gara che sembrava non voler finire mai e che al triplice fischio ha fatto scatenare l'ira dei tifosi. Molto discusso l'arbitraggio. Poco apprezzate infatti le decisioni della Terna che sono anche state contestate dalla tifoseria saprese che ha riempito gli spalti del Matteo Covone. Termina dunque uno a uno la gara tra Sapri Calcio e città di Solofra che regala un punto ciascuno alle due compagini. Un punto comunque prezioso per i biancazzurri che salgono così a 24 in classifica portandosi fuori dalla zona play-out superando il Salernum Baronissi sconfitte in casa dalla Sarnese. Con lo sport termina il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.